sai di sopra non vi vedo perché c'ho la luce Antonio stanno arrivando i messaggi? momento vuoi leggere qualche messaggio? velocemente perché se no ci sono? vai con i messaggi il microfono dei messaggi è acceso? si ok vai ciao Ale sono Francesca da Napoli centro vuole essere dedicata? vivi per lui un bacio a Savio ed Antonio è mamma Tiziana poi abbiamo ciao Alessio mi canti la canzone vivi per lui al mio fidanzato Antonio Montefusco salutiamo a tutta la fascia d'ascolto Alessio e Gianluca un bacio poi abbiamo sentito appresso ciao ragazzi sono Anna D'Amelito complimenti per la diretta mi dedicate un brano a piacere? si va bene allora andiamo appresso poi allora ciao Ale sono Anna Susi Nunzia Antonio e Veronica della Torretta sei bellissimo tu e tuo fratello mi saluti tutta la famiglia siciliano e a mio zio Gennaro siamo anche su streaming se è possibile una canzone a piacere un bacio anche a Gianluca grazie un bacio forte allora ciao Ale sono Maria da Messina complimenti per la trasmissione se mi puoi dedicare un brano a piacere la prossima canzone ti sarà dedicata vai avanti vai ciao Ale sono Anna Davila L'Iterno se è possibile dedicarmi la canzone vivi per lui un bacio a tutti voi va bene ti accontento andiamo appresso ciao Ale un bacione forte un citofono a leggere che è grande di più è un plasma è un plasma scusami andiamo appresso ciao Ale sono Bruno da Ponticelli mi dedichi entrambi una canzone d'amore alla mia ragazza Carmela si andiamo appresso buonasera bellissimo sei il mio idolo da sempre sei il numero uno saluti a te a Gianluca e a Savio parte di Enzo Cresso salutiamo ok Antone manteniti ricordati dove hai messo il punto ok così dopo andiamo avanti Savio ho detto ti salutano sempre cioè fammi capire questa situazione perché ti ha messo il microfono parlo in sala lontano per caso c'è una camicia dopo faccio fare un primo piano sei una scampagnata sei forte sei forte stavi dicendo secondo me è un fattore di età gli anni sono molti anni no sta guardando pure stai bene stai bene eh scarpe nuove tutto nuovo che so che saluto se vedi perché mi saluto no ma lo devi dire tu perché ti saluto secondo me perché ci conosciamo da molto tempo ah sono amici va bene sta a posto allora andiamo a dedicare subito un'altra canzone la prossima canzone si qual è? cantiamo la prossima canzone tratta dal disco nuovo io canto nato un po' che bene questa bella canzone è ricata un po' per tutti quanti che ascoltano questa bella trasmissione applausi vai io vado a cantare mentre mentre ti sto perdendo scritta sempre da me da Sergio Donati e da Checco da Alessio ne approfitto per salutare un bacio forte da parte mia mi associo anche io andiamo avanti e mandate i messaggi li leggiamo in diretta per voi ok vieni vieni tanto dolore che vuole guarire allontanare che non possiamo rifare quanto dobbiamo lottare solo per vivere insieme se questo è l'unico modo si deve fingire l'unico modo l'unico modo poco poco per far sta buona fatta consumare mi piace sto flere fatta carezza come si bella e dolce te vuole sodia per tutte st'emozione te vuole sodia ma tu sei sull'amore non te puoi studare ma tu sei sull'amore non te puoi studare ma tu sei sull'amore ma tu sei sull'amore ma tu sei sull'amore ma tu sei sull'amore ma tu sei sull'amore